Scegli Coconato Automobili, scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili, vende vetture fuoristrada nuove e aziendali, con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili, ospita la gentile clientela nella propria sede. Incontra da Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com ...settori così diversi... Riunione straordinaria della Comunità del Parco al Protoconvento Francescano di Castrovillari per esprimere solidarietà al Presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, e stigmatizzare il gesto intimidatorio che ha subito l'antivigilia di Natale. Pappaterra, come si ricorderà, ha ricevuto a casa una busta con un proiettile. All'incontro presenti i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio calabro-lucano del Parco, oltre ai due presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, ai tre presidenti delle province di Potenza, Matera e Cosenza, e ai presidenti delle comunità montane. Quella di oggi è una bella prova di incoraggiamento ad andare avanti, una prova d'affetto di tanti sindaci, dei rappresentanti di tutte le istituzioni, provinciali e regionali, e anche di tutto il mondo dell'associazionismo, delle organizzazioni professionali e sociali che comunque in questi anni ha impattato la mia attività, l'attività dell'ente parco. Sono molto contento di questo, è una bella prova d'affetto che ci sprona a non abbassare la guardia, ad andare avanti, seppure devo dirlo con grandi difficoltà, perché la vicenda è una vicenda che si è consumata con le modalità che ormai tutti conoscono, e soprattutto c'è un lavoro degli inquirenti che ancora deve produrre i risultati, quindi stiamo ancora vivendo una fase di difficoltà da questo punto di vista. Ma qual è il suo stato d'animo? Lo stato d'animo è quello di una persona per bene che si è sentita violata nella sua intimità. Io ho sempre operato con massima trasparenza, dedizione, soprattutto al mio territorio, vicinanza alla gente. Io credo in questi anni di aver parlato con migliaia di persone, spesso anche per rivolgere loro qualche parola d'affetto, di solidarietà, di vicinanza. È un gesto ancora una volta che io considero inspiegabile, sia per le modalità con cui è stato perpetrato, ma soprattutto perché lo considero molto abilmente non legato a quella che è la mia attività attuale. Papa Terra ha poi espresso solidarietà al sindaco di Sant'Agata d'Esaro, Antonio Bisignani, costretto a dimettersi a causa dei tanti atti intimidatori. Lì dopo sette atti di intimidazione, peraltro anche con forme molto più violente di quelle che ho subito io, un sindaco giovane, un'intera amministrazione, hanno gettato la spugna. Questo per lo Stato non è un bel segnale, è un segnale invece di arrendevolezza. Lei ha pensato a dimettersi? La tentazione è forte, è inutile dirlo, perché poi in questi casi al primo posto viene la famiglia, vengono i figli, insomma, io ho un figlio che studia fuori, un altro, il più piccolo, che è stato quello che è direttamente protagonista della vicenda, per cui lascio immaginare anche a voi lo stato d'animo che si prova. Però di fronte anche a questo grande afflato che io ho ricevuto, io voglio provare ad andare avanti, perché mi rendo conto che è giusto non gettare la spugna, però non vorrei neanche fare la fine che hanno fatto altri, che sono finiti nel dimenticatoio e spesso poi sono stati nella solitudine e nell'isolamento costretti a mettere in campo un'azione di arrendevolezza. Io l'ho detto, io sono anche pronto, come dire, se sappiamo che questa persona è una persona che è bisognosa di qualcosa, sono anche pronto persino a ritirare la denuncia. Anche se, voglio dirlo, utilizzo le vostre emittenti, giornali, io mi auguro che anche su questa mia vicenda non si abbassi la guardia, che lo Stato vada fino in fondo e faccia le indagini fino in fondo, perché il tentativo, o meglio, la tentazione potrebbe essere quella di derubricare anche questo accadimento come uno degli altri tanti fatti. A portare la solidarietà al Presidente del Parco del Pollino, anche l'Onorevole Franco Morelli. È un grave atto intimidatorio che va comunque sicuramente condannato, al di là delle origini, al di là del fatto politico o meno, al di là del fatto imprenditoriale o meno, è un vile atto che va condannato perché la dignità dell'uomo non può essere messa in discussione da niente e da nessuno. La Comunità del Parco Nazionale del Pollino ha poi approvato un ordine del giorno nel quale respinge con forza tali metodi criminali che inquinano il normale procedere di un'istituzione democratica qual è l'ente Parco Nazionale del Pollino e la sua guida. Autorevole e seria che ne ha consentito negli ultimi tre anni il riposizionamento oltre che nelle due regioni in cui l'ente agisce anche in tutto il territorio nazionale.